Oggi ritorno a scuola per gli studenti fino alla prima classe degli istituti secondari di primo grado per i bambini iscritti ai servizi per l'infanzia 0-6 anni. Per tutti gli altri ragazzi continua la didattica a distanza nella speranza che un miglioramento dell'andamento pandemico porti al più presto la riapertura di tutti gli istituti. Come promesso priorità alla scuola organizzata a partire dal 7 aprile a Faenza un calendario di lezioni all'aperto in piazza Nenni a due passi da piazza del popolo proprio sotto le finestre del comune e di fronte al teatro Masini, altro luogo della cultura ancora non accessibile come tutte le scuole secondarie. Giallo, rosso, arancione, scuola aperte in ogni regione, lo slogan dell'iniziativa. Ad aderire alle lezioni in piazza sono stati studenti e docenti dell'eceo Torricelli Ballardini. Ogni giorno col permesso della questura dalle 10 alle 13 professori di diverse classi si alterneranno nella piazzetta seduti di fronte agli schermi dei loro computer in didattica a distanza con i loro studenti. L'iniziativa è di fatto un presidio organizzato ed è consentito agli studenti partecipare compilando l'apposita autocertificazione. Da mesi il collettivo di priorità alla scuola chiede il ritorno in classe per tutti gli studenti. In inverno le lezioni all'aperto in protesta vennero organizzate di fronte agli ingressi delle scuole, ora direttamente in piazza per chiedere un ritorno in classe in sicurezza dopo l'inizio della campagna vaccinale per i docenti. Non solo classi aperte ma investimenti anche strutturali per il mondo scolastico. La campagna di screening in farmacia per alunni, familiari e per il personale scolastico con la possibilità di tamponi rapidi gratuiti confermata dall'Emilia Romagna non è ritenuta sufficiente. Priorità alla scuola dallo scorso anno chiede uno screening efficace ed efficiente direttamente nelle scuole da effettuare anche grazie al ripristino dell'infermeria scolastica ma soprattutto interventi di edilizia scolastica. Novi spazi, nuove aule per ridurre il numero di alunni per classe diminuendo contemporaneamente i rischi di contagio aumentando le distanze e contrastando le problematiche per l'insegnamento derivanti dalle classi pollaio. Più classi si tradurrebbero in più stabilizzazioni e assunzioni fra il personale docente. Le richieste di investimento comprendono anche la realtà al di fuori della scuola. Un miglioramento del trasporto scolastico oggi identificato anche dalle istituzioni come uno dei veri nuclei di possibile contagio. Sono ormai 12 mesi di mobilitazione per chiedere la riapertura e una riforma della scuola. Nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha chiesto di riesaminare le norme che tengono ancora chiusi gli istituti superiori poiché, sostiene la Corte, non esistono evidenze scientifiche che il contagio avvenuto in classe influisca sull'andamento generale del contagio. Che le scuole siano sicure è stato confermato anche da diversi esperti nazionali preoccupati però della realtà che si manifesta al di fuori della scuola e per questo convinti a chiedere ancora di pazientare.